Finisce in parità 1-1 allo stadio Razio Raiti di Biancavilla tra i padroni di casa e la polisportiva Santa Maria. Apre Giovanni Romano all'inizio della ripresa. Risponde la Biancavilla grazie a una torete della formazione cilentana. La polisportiva si presenta subito bene con una conclusione di maggio che termina sul fondo. Al settimo minuto è un colpo di testa di Romanelli su un calcio di punizione di Maio a terminare di poco alto. La polisportiva sta bene in campo e ha una doppia occasione al dodicesimo minuto. Prima Giovanni Romano trova i piedi dell'estremo difensore di casa ad opporsi e poi Tandara sull'azione successiva è imprecisa. Ancora giallorossi all'attacco. Sul cross di Fufuè il Biancavilla rischia l'autogol. Alla ventesimo manovra corale dei giallorossi che non viene però premiata. La conclusione di Maio al termine della splendida azione viene infatti respinta dalla difesa della Biancavilla. Cilentani ancora all'attacco. Maio apre per Tandara il tiro cross. Il pallone è di poco sul fondo. Alla venticinquesimo incursione di De Gregorio e il suo cross è respinto dalla compagine siciliana. La prima conclusione della Biancavilla giunge al ventisesimo e la tiro è bloccato da Grieco senza Patemi. Alla mezz'ora ancora una bella trama offensiva da parte della formazione di mister Esposito. La compagine siciliana ancora una volta riesce a salvarsi e allontanare la minaccia di Maggio e compagni. Si va così al riposo sul parziale di 0-0. La ripresa si apre così come si era concluso il primo tempo e al quarto giro di lancette i cilentani passano in vantaggio con Giovanni Romano servito da Domenico Maggio. A tu per tu con l'estremo difensore della Biancavilla Romano non sbaglia e porta in vantaggio la sua squadra. Alla quattordicesimo i cilentani potrebbero raddoppiare lancio di De Gregorio la sponda di testa di Fufuè. Tandara da ottima posizione spara alto. Aumentano anche le occasioni. Alla quarto d'ora Rabeni da buona posizione con un colpo di testa. La palla esce d'un soffio. Il neo entrato Lucarelli al ventesimo dalla distanza prova a sorprendere Grieco. L'estremo difensore smanaccia in corner. Alla ventisesimo la polisportiva Santa Maria reclama un calcio di rigore. Maggio viene atterrato in area di rigore per i cilentani e penalti per il direttore di gara. È tutto regolare e lascia correre. Il pareggio della formazione di casa giunge al trentaduesimo su un traversone dalla sinistra. De Gregorio impatta la sfera che finisce però alle spalle del proprio portiere. La polisportiva Santa Maria non si arrende. Alla quarantesimo Maio cerca di incuniarsi nell'area di rigore della Biancavilla. Il passaggio all'indietro trova Monaco che anticipa anche i capozzoli. Alla fine il Biancavilla si salva. Alla quarantaduesimo ancora il neo entrato Monaco ad andare in campo aperto. La sua conclusione viene sporcata in calcio d'angolo. Nella finale occasioni da una parte e dall'altra. La polisportiva Santa Maria in contropiede potrebbe nuovamente far male. Il Biancavilla ci prova con un paio di conclusioni di Lucarelli ma la porta di Grieco resta in violata. Arriva così il triplice fischio del direttore di gara. Termina 1-1 a Biancavilla nella terz'ultima giornata del campionato.